buongiorno amici e benvenuti in questo nuovo video dedicato a fortnite oggi è uscito nello shop giornaliero la nuova skin di scarlet witch skin dedicata al film che è uscito ieri nelle sale cinematografiche dottor strange e il multiverso della follia qualche curiosità e poi guardiamo insieme la skin appunto del personaggio personaggio che è apparso per la prima volta sui fumetti marvel in x-men numero 4 il suo vero nome è vanda maximoff figlia di magneto quindi anche lei è una mutante personaggio che abbiamo visto nel mcu più volte da avenger age of ultron infinity war e endgame e ha avuto una serie miniserie dedicata vanda vision in onda su disney plus personaggio che sarà presente nella pellicola di dottor strange e ora vediamo insieme questa skin che è uscita oggi sullo shop di fortnite mi raccomando vi ricordo di chiudere il canale attivare la campanellina e mettere un bel like per supportare il canale allora ci sono due stili incantatrice e scarlet bella questa e la particolarità del costume è che se infliggete danni il costume si illumina il backpack non mi fa impazzire infatti mi sa che la userò la testerò senza mantello perché proprio non mi piace ora vediamo insieme l'effetto del costume quando infliggiamo danno un avversario vediamo se parte intanto ci spariamo l'emote che fa parte del bundle bundle che costa 1800 wbox in linea con gli ultimi questo è l'emote tutto il suo potere del caos veramente veramente bello fatemi sapere se siete già andati al cinema a vedere il film di dottor strange e cosa ne pensate della pellicola e del personaggio qui c'è uno vediamo se con la fiocina funziona eh si grazie si illumina si illumina quando facciamo danni ma l'effetto dura pochissimo praticamente già svanito quindi nel complesso una bella skin del set marvel bellissimo personaggio dedicato al filone marvel fatemi sapere cosa ne pensate voi della skin se avete qualche domanda qualche curiosità scrivetelo nei commenti qua sotto vi ricordo che in descrizione trovate il link al mio instagram dove pubblico il contest per vincere oggetti decorativi magari chissà potrei mettere anche in paglio la skin di scarlet witch se arriviamo a 100 like ragazzi per questo video tutto noi ci vediamo al prossimo e buon game a tutti ciao 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 ciao